Nazareno, vieni qui accanto a me così facciamo un happy birthday tutti insieme eccolo qua, è un applauso al giovanissimo direttore che ci ha voluto qui per la seconda volta e noi ci siamo conosciuti in questa occasione perché la volta precedente ovviamente eravamo aspetta io mi voglio, ecco ok, eravamo qui però il direttore era ahimè malato oggi stai godendo un mi auguro dello spettacolo, raccontaci un po' le tue impressioni di questa bella d'Italia e poi ovviamente ci dedichiamo al nostro centro faccio i complimenti a tutte le ragazze che hanno partecipato al concorso perché tutte fantastiche per loro chiederei un grosso applauso ovviamente i complimenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione grazie a tutti abbiamo anche le nostre mascotte, raggiungeteci JP Mess, le mascotte di questa sera e visto che l'abbiamo chiamata Emma Carfagnini che oggi non ci divizia con la sua voce perché ahimè c'è questa afonia che la nostra felicità ha detto anche vero abbiamo la proprietà direttore? Manuel Catenacci che invidiare qui sul palco, chiamiamolo così è la proprietà che poi in sinergia proprio con il direttore e con le attività del centro commerciale hanno voluto creare questa meraviglia realizzata dalla pasticceria Castello prego Masterchef Giuseppe e il taglio della torta lo facciamo fare proprio alla nostra madrina, la bella d'Italia, da Bruzzo sì sì sì, aspetteremo le proclamazioni per poterla gustare però la tagliamo la tagliamo ufficialmente Emma viene a brindare con il nostro direttore e a Cristin l'onore Cristin sei pronta? coltello alla mano i nostri fotografi li vedo già pronti abbiamo la musica? facciamo partire la musica di eccezione e giochiamo con tutto il pubblico con un applauso tanti auguri le ginestre sei anni sono passati altri tanti e tanti tanti ve ne auguriamo per l'attività qui nel nostro amato a Bruzzo e salute questo presumo non si mangi perché è la lavorazione quindi mi raccomando questo rimarrà come rigotto il direttore la struttura benissimo benissimo invece quello che c'è sotto non ne rimarrà per rigotto perché ce lo condivideremo tutti insieme alla fine della proclamazione le nostre belle mascherine dovranno ahimè togliere il volvo altrimenti niente d'unità però ci vediamo dopo con loro con il direttore e ci buscaremo insieme a questa torta grazie 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 a Cristin tanti tanti auguri le ginestre grazie a tutti